E chi vince in quelle zone ors ha vinto la skin, tutto, ha vinto tutto Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video In questo video vi spiegherò come partecipare per vincere la skin glow Allora, prima di tutto i partecipanti dovranno scrivere delle battute Cioè sotto a questo video mi raccomando, sotto a questo video non ad altri video Delle battute, battute perché sono depresso e cerco di essere un po' felice Delle battute fino all'11 ottobre Ah, delle battute con il vostro nome Epic Cioè fate delle battute, sotto ci scrivete anche il vostro nome Epic Games E le battute, questi commenti avrete tempo di farli fino all'11 ottobre Un bel po' di tempo Poi farò una live in cui scrivo su un foglietto tutti i partecipanti Ragazzi poi io dopo l'11 ottobre non li conto come partecipanti Poi attiverò il contest, cioè comincerò a proseguire a 300 iscritti Quindi dovrò arrivare a 300 iscritti Poi farò delle zone wars Però visto che partecipano un bel po' di miei amici Ho deciso di fare prima le zone wars con i miei amici Solo con i miei amici Solo con i miei amici E tra tutti i miei amici dovrà rimanere uno Che vincerà tutti i round Insomma, dovrà rimanere uno Poi quel mio amico giocherà con i fan Sempre nelle zone wars E chi vince in quelle zone wars ha vinto la skin Tutto, ha vinto tutto E poi ragazzi per dare la skin glow Dovremmo parlare in privato su Instagram Perché mi darete l'email e la password del vostro account Ragazzi state tranquilli che non vi rubo l'account Anche perché se io ve lo rubo Potete scrivere sotto al mio video Mi ha rubato l'account tutte cose Perdo un botto di iscritti Insomma, nessuno si sfida di me Ragazzi state tranquilli, non ve lo rubo Poi ovviamente ve lo ridò l'account Cioè, insomma, state tranquilli E infatti dovremo parlare in privato su Instagram Infatti mi manderete l'amicizia E parleremo su Instagram E vi darò la skin Totalmente gratis Niente Questo era tutto Ragazzi mi raccomando Voglio che a questo contest Cioè a questo Givoi ci partecipi un bel po' di gente Quindi mi raccomando Condividete questo video a un sacco di vostri amici Ditegli di iscriversi E anche di partecipare Così Perché quando arriviamo a 300 iscritti Io farò partire il contest Perché io il contest non lo faccio partire Finché non è le 400 iscritti Niente Spero questo Givoi vi piaccia E niente Avrete più notizie di questo Givoi L'11 ottobre Ciao Cominciate già a fare i commenti Cioè quindi Commentate subito con la battuta Il vostro nickname di Fortnite Proprio ora in questo momento Perché se per esempio I commenti li fate in un altro video Non va bene Cioè dovete fare su questo video Proprio qua sotto Bene Ciao Ciao